Ci siano pochi dubbi, la posizione è assolutamente regolare, eccolo qui il pallonetto, assolutamente volontario, crediamo da parte di Bruno Perez che si cicla così il terzo gol del suo campionato, il sesto in Serie A e soprattutto riapre la partita e questa per il Napoli non è sicuramente una buona notizia, insomma i partenopetti qui hanno giocato in scioltezza e tranquillità, forse addirittura un po' troppo senza trovare il tris e qui invece arriva il gol di Bruno Perez che poi è insieme ai tifosi del...